Io parlo tutte le sere con Piero della Francesca, che secondo me, lui e Beato Angelico sono come fare un viaggio a Katmandu, no? Tu immagini il Cristo deriso di Beato Angelico metafisico, no? E a questo il rinascimento, la prospettiva, perché la prospettiva, come dico sempre, lo strumento è la bomba atomica più violenta inventata dagli anni che ci ha chiuso. Perché? Perché la mata prospettiva, che tanto adoriamo, è uno strumento di distruzione totale. Dalla prospettiva si è diviso il mondo in occidente, nella parte nord e nella parte sud del mondo. Cosa ha fatto la prospettiva? Per la volontà di pochi ha bloccato il tempo per organizzare lo spazio. Dopo 500 anni siamo usciti dal sequenziale di Daskalico, l'era Gutenberg, quindi la parola parlata, siamo arrivati al sabespazio. È un'onda anomala, per riprendere la forma circolare delle città, che sta investendo tutto. Noi, italiani, sempre primi in tutto, ora si sono aperti gli algini e quindi c'è il confronto fra l'in e l'out, fra il fuori e il dentro, fra il local e il global. Tutti parlano di crisi economica, ma è una crisi strutturale, finalmente, grazie a internet prima, ai social network, alla connettività più che collettività, oggi c'è più democrazia. Oggi si vive nell'era dell'account. Quindi, cos'è un network oggi? Un network è un'area pubblica dove c'è la riconoscibilità per tutto quello, dove ognuno è responsabile delle proprie azioni, dove ognuno mette la propria faccia, dove io so come la pensi tu. Ho iniziato a giocare, perché a me piace il termine giocare con l'arte, perché mi sento un bambino piccolo che lascia i propri giocattoli sparsi per il mondo e poi ognuno può decidere se farli funzionare o meno, se giocarci oppure meno. Una delle utopie dell'arte, degli obiettivi dell'arte, all'inizio secolo, nel novecento, era quella di unire l'arte alla vita. Ma se l'arte deve cambiare il mondo, se l'arte cambia il mondo, se l'arte deve riflettere sul mondo, se a noi artisti ci dobbiamo ancora chiudere nei musei e non riusciamo a fare un cazzo, se usciamo fuori e non cambia niente, ci vogliono cento anni, oppure meglio, ci vogliono cento libri, ci vogliono duecento anni per agliettare qualche giornata grigia di qualcuno, c'è qualcosa che non funziona. Forse ci siamo chiusi troppo, forse è diventato autoreferenziale, forse siamo antichi, passati, l'arte ci sarà sempre, ma ha assunto altre forme. Basta con la dittatura dello spettatore, l'opera non può essere quella che dall'alto, come diceva Pierpaolo Pasolini per la televisione, ti educa. L'obiettivo di ogni artista è, il mio obiettivo è indossare il mondo come una seconda pelle, il post-Newman. Anche qui ho fatto l'esempio di Michael Jackson come fanzismo, ma anche come opera, ragazzi. Michael Jackson che si mette la tuta e si alza sopra il concerto come uno venuto dallo spettatore, quello è post-Newman, è andato oltre. Difido sempre da chi affronta, parla di qualcosa rispetto al passato. Noi dobbiamo parlare del futuro. L'artista è colui, come dice McClune, che ha le antenne e che riesce ad anticipare visioni che ancora devono succedere, non che facciamo esempi del passato. L'opera nasce nell'attimo in cui l'artista espone l'opera muore. Aspettiamo la propria rinascita. L'opera deve rinascere a prescindere da chi la fa. Questo è un po' il... In effetti, uno dei miei progetti a cui tengo di più è la Global Education. Cos'è la Global Education? Io quando ero piccolo, io sono nato in Francia da due genitori migranti e quando ero lì loro si alzavano alle 4 del mattino e tornavano la sera alle 8, alle 9. Si alzavano di notte e tornavano di notte per fare i sacrifici, per fare la casa e tornare nel bel paese, che è il nostro bel paese. E io ero visto da un'amica di mia mamma che era una signora squisita siciliana. Quindi prima da un'amica siciliana, poi calabrese, quindi parlavo il francese e il siciliano e il calabrese. In effetti, vedi che ancora oggi mi dicono, ma tu sei palermitano, siciliano, calabrese. No, io sono nato in Francia e sono figlio di migranti di origine abruzzesi. Sono tornato qui, che avevo 7 anni, e mi hanno iscritto a scuola. A scuola mi hanno insegnato l'ABC, l'abecedario. Siccome io non sapevo la lingua, perché sono tornato qui da mia nonna, che parlavo l'indialetto teramano sotto il gran sasso, quindi francese, siciliano, napoletano, calabrese, etc. Non ci ho capito più niente, sono andato in confusione, mi hanno fatto fare le lettere. A, B, C, a me e mi dicevano sempre A come asino. E quindi sono stato male, sono stato dallo psicologo e non volevo più andare a scuola, perché gli altri mi prendevano in giro. E perché non sapevo leggere, perché non ci capiva più niente, e anche per la mia balbuzienza, perché poi l'emozione, l'agitazione. C'era quel banchettino verde, io con le mie penne bicche, mentre gli altri spiegavano, io mi mettevo a disegnare, perché per me la C non era casa, non era casa, ma la mia casa era maison. Per me l'école non era scuola, ma l'école, e allora sono stato male. Dopo 20 anni ho creato il progetto Global Edu Cation. Cosa faccio? Prendo le lettere dell'alfabeto e le ridisegno io, dando un altro punto di vista. Fatte interamente con la penna bicche. Il progetto è iniziato tre anni fa, quattro anni fa, e ho fatto l'abbecedario in italiano, l'abbecedario in spagnolo, l'abbecedario in inglese. Poi quando ho fatto tutte le abbecedario, tutte le lettere, dove davo un altro punto di vista, per esempio sull'A, su quello americano, sull'A c'era Anziet, e c'erano gli aerei delle Twin Towers. Quindi ironico, provocatorio, era importantissimo relazionarmi con il luogo, stare lì un periodo, e poi quando avevo fatto esperienza, trasfigurandomi con il luogo, disegnavo le mie lettere. La seconda fase di questo progetto si è trasformato nelle mappe emozionali e nel dizionario della Global Education. Vado nei luoghi, ho iniziato con l'India, Koji, non ho fatto a Cuba, e ora lo farò in Messico, faccio un periodo di due mesi di residenza lì, e faccio dei miei disegni, iconograficamente, che si relazionano con il luogo. Conosciuto quel luogo. Faccio scegliere la gente del luogo, cosa scriverci? Ecco che fa un passo in più, cioè l'alfabetizzazione, che per 500 anni, tornando a Google, ci ha educati, l'ABC settato e risettato da pochi per tanti, oggi viene fatti da tanti, grazie all'esperienza. Quindi sto ricreando una mappatura del mondo e un'alfabetizzazione del mondo, non prestabilito tramite l'ABC o le mappe geografiche, ma tramite l'esperienza della gente. Questo è il mio modo di concepire l'arte. Ho creato un network. Perché ho creato un network? Il network l'ho creato con Maria Crispal, che fa l'artista, con Davide Sottanelli, che si occupa di animazione, e con Emilio Sciatnella, che è il coordinatore di Sostizio Network. Con Sostizio Network collaborano Derek De Enzo Magherkoiv, Alberto Abruzzese, Julia Kent, sono in tanti quelli che collaborano con Sostizio. Un network che crea progetti. Noi in quattro anni abbiamo vinto tre progetti di un milione e mezzo di euro. Da una piccola città, da un piccolo studio, sette anni fa è nato Sostizio. Il network mi ha permesso di crearmi una rete. Io sono un artista che se la domattina finisce il mondo, il sistema dell'arte scoppia, inneplode su se stesso, i collezionisti spariscono, i curatori spariscono, i musei spariscono, i direttori, inizio a piangere perché ci sono molto affezionato, ma ho una rete tale che continua a fare quello che faccio oggi. Noi abbiamo vinto con Acquarelli per non sprecare la vita. È un progetto sulla tutela delle risorse idriche. Cosa ho fatto? Ho fatto un'installazione. Allora, il progetto è iniziato sei anni fa. Ho coinvolto 40 comuni, poi parlano di arte relazionale nell'arte, 40 comuni, 100.000 bambini. Per due anni mi sono fatto tutte le scuole sul concetto di arte di riciclaggio. A ogni bambino ho fatto fare un autoritratto di se stesso tramite una bottiglia di plastica che riciclavano a casa. Gli ho fatto fare per un anno 40 comuni, più di 500 scuole. Gli ho fatto fare un anno di educazione ambientale, quindi la compitizione chimica dell'acqua, la compitizione fisica dell'acqua, l'acqua nella storia dell'arte, eccetera, eccetera. E poi ho fatto fare ad ognuno un autoritratto. Alla fine della manifestazione al centro della città ho fatto questa scritta Grande Acquarelli per non spiegare la vita, lungo un chilometro e mezzo la prima volta. Ogni bimbo doveva posizionare la propria bottiglia. Nell'attimo in cui un lio, una goccia, una bottiglia, si univa alle alte, si creava questo fiume. Il corso San Giorgio di Teramo era diventato il corso dell'acqua. Nell'attimo in cui si posizionava l'ultima bottiglia che costruiva il puzzle, si sentiva il rumore dell'acqua. Peccato che se mancava una bottiglia delle centomile, l'installazione non si accendeva. Era come dire, in un mondo omologato come oggi, dove ogni bimbo è pezzo unico, il bimbo è paragonato all'opera d'arte. Se manca un bambino, che è pezzo unico, noi ce ne vogliamo accorgere. Se muore un bambino per mancanza di acqua, noi ce ne vogliamo accorgere. E non vogliamo prendere un'altra bottiglia che non sia fatta da quel bimbo. Quindi è un pezzo unico. Questo progetto è iniziato con centomila, l'abbiamo portato in Croazia, l'abbiamo portato a Belgrado, a Oseg, a Cestocova, a Davila, in Burkina Faso. Oggi sono più di un milione, stiamo facendo un film e tutte queste esperienze hanno determinato delle foto, dei disegni che io ho dato a delle ONG con cui collaboro in questo caso, un progetto Mondo, che opera da 40 anni in 21 paesi parte sud del mondo e tutte le mie opere saranno date in beneficenza a queste collezioniste e con questi soldi si realizzeranno dei pozzi in Burkina. Grazie a tutti.